Se si rompono i vetri nel bosco quando passa, perché va alla velocità del suono? Ah, certo! Perché senti su... Si rompono! I vetri per terra di... Ma che cazzo è passato? No, no! I vetri si rompono addirittura! Abbiamo provato anche a cercare di vederlo al pit stop, ma non ci siamo riusciti, perché ci sta solo un secondo e poi riparte. Ma tutte dovrebbero starci solo un secondo, anche la Ferrari. Adesso capisco perché sta solo un secondo. E perché? Perché le ruote hanno un bulone solo. Ma certo, tutte, no? Noi ne abbiamo cinque, no? Cinque buloni? Perché poi abbiamo scelto sui cinque, c'abbiamo più quello dell'antifurto? No, ma l'antifurto non dovrebbe...